Dai mercatini agli spettacoli di luce, dalla casa di Babbo Natale al villaggio degli Elfi. Un'intera città si sta così preparando a vivere uno dei periodi più belli dell'anno. Torna infatti a Rezzo, città del Natale, che dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, ogni fine settimana, vestirà a festa il centro storico. Tra le principali novità, quella offerta dal Prato, che si trasformerà nel Parco delle Meraviglie, ospitando appuntamenti a tema, mercatini tipici, il planetario e la ruota panoramica. Qui, per la prima volta, sarà anche realizzata una delle installazioni luminose più originali e grandi d'Italia. Oltre 640.000 luci LED illumineranno ben 8.000 metri quadrati, con emozionanti giochi di luce a bassissimo impatto energetico. Torna anche la Fortezza delle Meraviglie, con un vero e proprio villaggio degli Elfi. In Piazza Grande, invece, spazio come sempre ai mercatini di Natale, mentre per i più piccoli si rinnova l'appuntamento con la Casa di Babbo Natale. Nel chiostro della biblioteca, poi, la mostra Mercato Artigiani di Natale e alla Galleria d'Arte Contemporanea, la Brick House Art. Tanti anche gli eventi speciali e le iniziative collaterali dedicate al tema della meraviglia, come il suggestivo percorso di installazioni luminose, che offrirà una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici.